Buongiorno a tutti, oggi con noi c'è il professore Puzzardi che ha conseguito la laurea nel 2000 presso l'Università degli Studi di Milano e dopo poi è diventato il professore di filosofia della scienza da 2015. Dopo il dottorato è andato in Germania all'Istituto della Ricerca per la Storia della Scienza e quando è rientrato in Italia ha iniziato a collaborare presso l'Osservatorio Astronomico di Brera e dopo all'Università di Pavia. Inoltre è stato autore di molti saggi di storia riguardanti il XIX e il XX secolo e ha scritto anche diversi libri tra cui lo sguardo muto delle cose. Inoltre l'acqua minerale per i relatori è fornita dalle fonti di Sassovivo, la storica acqua di Foligno che sgorga dalle grotte dell'Orso nel parco del Fonte a Sassovivo, imbottigliata fino al 1930 e è tornata furibile dopo un'assenza di otto anni. Grazie, grazie dell'ospitalità, come al solito a Foligno ogni volta ci torno con grande piacere ormai da quanti... che versione è questa? È l'ottava, quindi sono otto o nove anni che ci vengo qui proprio dall'inizio e insomma ho trovato sempre una bella accoglienza e come ha detto anche Giorgio Denti poco fa, grazie a tutti voi, perché se siamo qui è perché in qualche modo ci volete bene e ci fate stare bene. Nei giorni scorsi già ho sentito, ieri già due conferenze di astronomia, astrofisica, valore culturale dell'astronomia, io temo di fare molto peggio dei miei predecessori, con cui questa piccola riflessione un po' si interseca, soprattutto con le conferenze a cui ho assistito, davvero molto belle, di Piero Bianucci e di Giulio Giorello. I nomi che sono scritti qui non sono... beh, forse l'ultimo, se guardate sulla brochure c'è un titolo che è un po' strano, cioè la guerra dei mondi, Tolomeo, Copernico, Cico, no? No, invece è Tico, quindi forse l'ultimo personaggio non è così noto, ma ne accennerò brevemente, mentre Tolomeo e Copernico, sì, sappiamo bene chi sono, no? La guerra dei mondi invece, insomma, ci aspetteremmo che parlo di fantascienza, invece no, non so se parlerò di scienza, ma certamente di qualcosa che interseca i destini delle scienze dure, l'astronomia, che fino al 600, 700, era un pezzo speciale della matematica. Oggi l'astronomia è quasi del tutto astrofisica, no? Una riflessione, una scienza che ci parla della fisica degli astri, delle stelle e dei corpi celesti. L'astronomia fino al 600, 700 e buona parte dell'800 non si è occupata di queste questioni invece, si è occupata soprattutto delle leggi che possiamo ricavare dall'osservazione del cielo. Allora immaginatevi di vedere, di guardare il cielo, no? Siete in una bella serata terza, invernale, e osservate il cielo. E cosa vedete? Ovviamente vedete tante stelle, no? Come stanno le stelle? Beh, le stelle stanno fisse in cielo. Certo si muovono, ma si muovono tutte insieme. Se voi le vedete, le guardate in momenti diversi nell'arco della serata, vedete questa rotazione, no? A un certo punto tramontano, no? Il cielo si muove. Io vi chiedo di fare sempre questo sforzo di immaginazione adesso. Dimenticate tutto quello che sapete. Dimenticate di sapere che la Terra si muove attorno al Sole. Intanto perché non funziona proprio così, no? Non è che ci muoviamo attorno al Sole. Ma comunque dimenticate di saperlo. Guardate il cielo. Non vedete soltanto le stelle. Se c'è la Luna vedete anche la Luna, no? La Luna ci gira intorno, no? Questo è abbastanza evidente perché la Luna non è una stella e si muove su uno sfondo di stelle relativamente fisse tra di loro. Cioè non cambiano la posizione fra loro. E poi vedete anche altri oggetti. Per esempio vedete, anzi, se non ci sono comete, sostanzialmente vedete i pianeti. I pianeti hanno un moto straordinariamente irregolare. Questo astrofotografo, Tungt Zesel, ha fotografato sempre lo stesso pianeta, Marte, prendendo le sue fotografie in 35 date diverse, poi ha sovrapposto queste fotografie e quindi che cosa ha guardato? ha osservato la traiettoria del pianeta Marte. I pianeti non hanno un moto regolare. Cioè, sì, hanno un moto regolare, più o meno, ma sempre molto incasinato, diciamo. Vedete che fa questa S, il pianeta, no? Gli antichi chiamavano. Questa S, l'astronomia è una scienza antichissima. In un certo senso è la più antica delle scienze. Perché? Ma perché l'astronomia ci serve per coltivare. L'astronomia è la scienza che controlla il calendario, no? E il calendario ci serve per coltivare, se siamo stanziali. Se non siamo stanziali, se siamo nomadi, ci serve l'astronomia. Ci serve per orientarci. Perché l'astronomia è fatta di punti fissi e di oggetti che si muovono relativamente a quei punti fissi. La stella polare, la croce del sud per chi sta nell'altro emisfero. Quindi, appunto, l'astronomia è una scienza antichissima. E gli astronomi antichi, che avevano preso in considerazione questo problema, avevano chiamato il moto dei pianeti retrogrado. Cioè, a un certo punto, tornano indietro. Ora, guardiamo un'immagine un po' più complessa, elaborata sempre sulle osservazioni. Qui è stato fotografato un quadrante, no? E' stato studiato il moto di alcuni astri nel corso del tempo. Ora, guardate, quello è Marte, vedete? E poi ci sono altri pianeti, forse giù in fondo non si vede, Venere e Mercurio. Guardate Mercurio cosa fa? Torna indietro. Mentre il Sole ha una traiettoria sostanzialmente simile, no? Saturno, guardate, Saturno è su, poi a un certo punto sembra che si muova all'indietro. Se ne va e poi ritorna adesso, no? Poi c'è un astro che vedete molto, molto, molto rapido. Che cosa può essere quest'altro, molto rapido rispetto agli altri? E' la Luna. Se vi bloccassi, è un po' difficile adesso farlo, ma se bloccassi c'è scritto Moon, la Luna. Poi guardate, questi palloccolini, questa è un'elaborazione ovviamente, ma questi palloccolini che cambiano di dimensioni, segnalano che qualcosa è più grande e qualcos'altro è più piccolo. E a volte le dimensioni cambiano. Quindi cosa vuol dire? Perché io vedo una luce ora più grande e ora più piccola? Perché cambia la distanza, no? Quindi un pianeta che cosa fa? Il Sole no, ma gli altri pianeti hanno un moto retrogrado, cioè sembra che si muovano da una parte rispetto a noi e poi tornino indietro e hanno anche questo tipo di moto, avvicinamento e allontanamento rispetto a noi. Quindi è difficile capire come fare a regolarizzare questo moto. Ma cosa significa regolarizzare? Ovviamente regolarizzare significa spiegare. era un vecchio problema di Platone, no? Cosa vuol dire spiegare qualcosa? Significa attribuire a ciò che non sembra non avere una regola, una regola. Fare in modo di ridurre a moti uniformi, a un sistema di moti uniformi, ciò che uniforme non è. Questi non sono moti uniformi in sé, ma forse, dice Platone, c'è qualcosa alle spalle, c'è un insieme di moti uniformi alle spalle che rende questi moti di formi invece comprensibili a noi, no? In realtà siamo noi a essere uniformi e cerchiamo di impossersarci della natura in questo modo qui, cercando di regolarizzare ciò che apparentemente regolare non è. Questa è la ricerca delle leggi di natura. D'altronde anche il pianeta, pianeta, che cosa vuol dire pianeta? Pianeta viene da una parola greca, no? Planetes. E fin qui dite, vabbè, ce lo potevamo immaginare. Sì, ma che cosa vuol dire planetes? Planetes viene da un verbo, planeo, mai, che significa muoversi, ma muoversi in maniera erratica, errante, no? Così, così. Cosa significa errare? Errare certamente significa sbagliare, ma non sbagliare e prendere una direzione soltanto, una volta soltanto diversa. No, vuol dire fare una sorta di zigo-zago. Nella letteratura del 7-800, nella letteratura tedesca del 7-800, ogni tanto c'è questa figura, compare questa figura del Wanderer, del viaggiatore, no? Alla Goethe. Ma è un viaggiatore di tipo particolare, colui che appunto erra, sbaglia, fa degli zigo-zaghi e in questo sbagliare magari trova anche qualcosa di interessante. Ecco, i pianeti continuano a sbagliare, non si uniformano a delle regole. Eppure noi cerchiamo lo stesso queste regole. E allora, come possiamo fare a trovare delle regole buone per i pianeti? E beh, storicamente abbiamo alcune possibilità, non ne abbiamo tantissime, no? Possiamo metterci dal punto di vista in cui siamo noi fermi e questi si muovono. quindi la Terra al centro. Ora ho perso anche... Ecco, ovviamente se era il contrario. Ecco, la Terra al centro. Oppure possiamo anche immaginare di non essere noi al centro e che siamo in periferia, ci stiamo muovendo e il fenomeno che stiamo osservando è moto relativo. Quando siete fermi in stazione e il treno comincia a muoversi, non sempre riuscite a capire se vi state muovendo voi o se è un altro treno che si sta muovendo. Certo, la banchina non ci dà problemi, no? Perché sappiamo che la banchina è ferma. Ma se è un altro treno, se guardate soltanto un altro treno, siete voi che mi muovete o è l'altro treno che si muove? No, questa è... è una informazione molto banale che sappiamo tutti. Lo sapevano anche i greci. Tant'è vero che l'altra alternativa è questa. Allora, qui ho un problema perché voi sapete benissimo che questo si chiama, spesso viene chiamato il sistema tolemaico, no? Degli antichi. E Tolomeo era un astronomo del secondo secolo dopo Cristo. Ma in realtà questo sistema è molto più antico. Ci sono delle intuizioni che Tolomeo preserva, per esempio, geocentrismo, terra al centro, che vengono già da Eudosso e molto prima, no? Eudosso è un astronomo del quinto, quarto secolo avanti Cristo. Aristotele se lo tiene questo impianto, anche se sia Eudosso sia Aristotele ragionavano non sulla base di pianeti che si muovono, ma delle sfere che hanno incastonato i pianeti. Insomma, un gran caos. però l'idea era sempre di tenere la Terra al centro, ferma, e far girare tutti gli altri attorno, no? Questa idea poi viene trasmessa attraverso il parco, un astronomo alessandrino del secondo secolo avanti Cristo e poi a Pollonio. Ognuno fa delle innovazioni, tra l'altro. Porta cose nuove, no? E Tolomeo raccoglie tutte queste cose nuove, le mette insieme in maniera creativa, fa altre innovazioni e dà un sistema geocentrico che dura per tanti anni. Questo sistema riesce a spiegare benissimo il moto retrogrado dei pianeti. Tra un attimo vediamo perché. Ma attenzione, l'altra alternativa, che è quella di Copernico, 1543 dopo Cristo, era presente già in Grecia. Per esempio, era presente attraverso la scuola pitagorica, è arrivata ad Aristarco di Samo, e poi quarto, quarto, terzo secolo avanti Cristo, e poi si è trasmessa, probabilmente è arrivata in età molto posteriore, fino a una grande astronoma poi assassinata, perché era difensore di una idea legata ancora agli antichi dei, mentre il cristianesimo trionfante e imperante si andava diffondendo nell'area mediterranea, Ipazia, no? C'è stato anche un bel film su Ipazia e il coraggio delle idee. E siamo ormai nel 350-400 dopo Cristo. E poi c'è questo sistema un po' stravagante, che vedremo meglio. Questa sarà la scelta appunto di Tico, l'ultimo mio personaggio. Tico è un astronomo che vive più o meno nella stessa età di Copernico, un po' più giovane, no? E verso il 1550-60 inventa un modo per mettere insieme, tenere insieme i due sistemi. Il sistema con la Terra al centro, ferma, ed eccola qua, e il sistema di Copernico con il Sole al centro. Eccolo qua. Ma cosa succede? Attorno alla Terra, che sta al centro fisico del sistema immobile, dice Tico, ruota il Sole, e ovviamente anche la Luna, no? Ma attorno al Sole ruotano gli altri pianeti. Vedete? guardiamo un po' meglio i sistemi ad uno ad uno. Perché, vi dicevo prima, questo sistema, come fa a spiegare questo sistema il moto degli erranti? Vi ricordate che caos era, no? Questi pianeti vanno avanti, poi tornano indietro, poi arrivano avanti, fanno dei riccioli. E allora guardate che cosa si inventano gli astuti matematici greci. Ricordatevi che voi dovete spiegare, per spiegare dovete far tornare i conti, no? Le vostre osservazioni devono rientrare nel vostro schema, nel vostro strumento matematico. Eccolo qua. Il moto retrogrado può essere spiegato attraverso un sistema di cerchi che ruotano su cerchi. I matematici greci li chiamarono epicicli, no? Epicicli vuol dire cerchio su cerchio. Ora, la Terra sta qua, sta al centro. Il pianeta, l'idea di Ptolomeo e degli altri è questo, non sta su questo cerchio, ma sta su un altro cerchio che nel frattempo si muove attorno a un centro che ruota su questo cerchio maggiore. Questo cerchio maggiore si chiama deferente e questo piccolino si chiama epiciclo. La traiettoria qual è? Questa. Beh, qui, dall'altra parte forse, ma comunque. Ecco. È chiara questa cosa qui. Non è molto facile da visualizzarla, ma poi vedremo come visualizzarla. Arriva, entra in scena, molto tardi Niccolò Copernico, ma vi dicevo prima, alla fine Niccolò Copernico ripesca dal passato ed è ben consapevole di farlo. Niccolò Copernico ci dice sappiamo che il sistema di Ptolomeo ha un sacco di problemi, no? perché calcola bene le traiettorie ma ogni tanto dobbiamo correggere perché nuovi dati entrano e questi nuovi dati non riescono ad essere previsti ma si possono poi spiegare, no? Una volta che noi abbiamo fatto delle correzioni. Però, insomma, potete capire che per un astronomo questo non va tanto bene, no? perché è come un continuo cambiamento di idea. Sì, metti dentro sempre un nuovo epiciclo, fai muovere sempre un po' di più i tuoi cerchiolini, li aggiusti, però, insomma, non va tanto bene se noi continuiamo a correggere un sistema. Un sistema dovrebbe essere bene affidabile. Allora Copernico cosa dice? Ma proviamo a invertire il punto di vista. Siamo noi fermi. Scusate, non siamo noi fermi. È il Sole fermo e noi ci muoviamo come uno degli altri pianeti intorno al Sole. E allora noi vediamo questo moto retrogrado perché in realtà possiamo, non facciamo altro che proiettare, vedete, questo è il Sole, questa è la Terra e questo è il pianeta che io osservo dalla Terra, ok? E mi scrivo le cose che osservo su un foglio, questo, su un foglio circolare in realtà. E allora posso proiettare tutte le varie posizioni ed ecco perché l'effetto finale è un moto retrogrado. guardate dove va a finire la posizione 2, la posizione 3, ma poi qua a un certo punto la posizione 4 va indietro, la posizione 6 la ritrovo qui. Insomma, quindi, qua in 3D si vede ancora meglio, quindi il moto retrogrado è l'effetto del nostro movimento composto con quello altrui. Questa è la buona notizia. La brutta notizia, se volete, è questa qui. Per Copernico non è una brutta notizia in realtà, lui appunto è cosciente, è un matematico. Copernico in questo modo non ci dice che ci fa preferire il suo sistema a quello di Tolomeo, ci dice che il suo sistema può spiegare altrettanto bene le stesse cose, no? Perché voi avete sempre il vostro fenomeno, voi non sapete niente chi è al centro, non lo sapete, non lo saprete mai. Perché voi siete dentro un sistema, siete un pezzo del sistema, non potete sapere come funziona il sistema, siete dentro, no? Copernico vi sta dicendo, guardate, io vi posso trasformare un sistema geocentrico in uno eliocentrico. Sono alternative, dovete fare qualche esperimento in più per decidere chi sta al centro e chi no e magari non vi basterà nemmeno, lo vedremo tra un poco. Tant'è vero che uno potrebbe dire, ma dai, ma agli epicicli, che mezzo complicato gli epicicli, ma io vi dico, c'è certamente un corpo celeste che compie un epiciclo. Anzi, ce n'è soltanto uno, ce ne sono di più. Nel sistema di Copernico. Qual è questo corpo celeste? Bravo, la Luna. Guardiamo l'orbita lunare. Questo è un video che si trova facilmente su YouTube, messo a disposizione dal planetario di Milano. Non è del tutto affidabile, poi vi spiego perché. Cioè, è una schematizzazione, chiaramente, no? Guardate, questa è la Luna, questa è la Terra. E ora verrà disegnata l'orbita della Luna attorno al Sole, eh? L'orbita della Terra, l'orbita della Luna attorno alla Terra, va bene, è un ellisse, qua invece, questo è un motivo per cui non è affidabile, qua è un cerchio, ma è un ellisse con eletticità molto bassa, no? Qual è la differenza tra l'ellisse e un cerchio? L'ellisse ha due fuochi e il cerchio ha un centro. Se voi avvicinate i due fuochi e li fate convergere, ottenete un cerchio, no? E se cambiate il raggio del vostro epiciclo, cioè il raggio dell'orbita della Luna attorno alla Terra, guardate come cambia la forma di questo epiciclo. Ecco perché l'epiciclo è un mezzo potente. Perché con un sistema del genere potete fare quello che diavolo volete. In un certo senso, aveva ragione Platone. riportare i moti regolari degli erranti dei pianeti alla regolarità, a moti uniformi, ma a un insieme di moti uniformi, una composizione di moti uniformi. Guardate che belle immagini, no? Che bella regolarità che viene fuori. È tutta matematica. soltanto che ovviamente insomma gratifica poco pensarla in questo modo, no? Perché avevamo un sistema, quello di Ptolomeo, ora ne abbiamo due in cui possiamo scegliere. E allora qual è il sistema migliore? E Tico a un certo punto ha avuto una bella idea. Lo sfondo naturalmente cambia nel corso del tempo, no? Perché? Beh, per tanti motivi, tra cui un motivo importante è che entra in scena una variabile importante, la teologia. E la teologia cristiana, basata sulla lettura della Bibbia, dei testi sacri. Ora, nella Bibbia a un certo punto nel libro di Giobbe è scritto che Giobbe disse più o meno Sole, fermati e il sole si fermò. Dunque Giosuè Giosuè scusate Giosuè poi ce l'ho scritto ma grazie per la precisazione. Giosuè disse Giobbe mi sa che avrebbe avuto poco da dire perché era tutto acciaccato insomma. Giosuè dice sole fermati il sole si ferma e quindi se Giosuè dice sole fermati il sole si ferma il sole sarà stato in moto perché dovrebbe essere fermo. A questo punto uno potrebbe dire questo c'era Galileo Galileo grande copernicano 1620 attorno al 1620 un celebre scritto dice sì ma guardate in realtà la Bibbia i libri sacri parlano per metafora mica mica è davvero ai ai eresia gli si potrebbe dire a Galileo perché perché quelle cose lì è la parola di Dio Dio come fa a parlare Galileo ha questa curiosa idea ci sono due libri c'è il libro sacro che è scritto per metafora ma poi c'è il libro della natura il libro l'autore di tutti i libri di tutti i libri è Dio Dio nella natura usa il suo linguaggio che è fatto di cerchi di quadrati di triangoli di figure geometriche guardate che qua non sono altro che figure geometriche e non ci mente e nell'altro libro invece però per leggere il libro della natura vuol dire che devi impossessarti del linguaggio della natura che è la matematica e la geometria e nell'altro libro invece deve essere letto da tutti anche da quelli che non lo sanno questo linguaggio e quindi dice Galileo parla per immagini ma se voi siete un conservatore un teologo radicale potreste dire oh Galileo ma tu ci stai dicendo che Dio dice ci sta mentendo ma come ti permetti quindi Galileo è andato dal punto di vista loro diciamo hanno tutte le ragioni di dirgli guarda che finisci in un posto molto caldo ti ricordi una trentina d'anni fa Bruno 1632 processo di Galileo 1600 rogo di Bruno guarda che mettiamo a rosto anche te quindi dal loro punto di vista avevano ragione ma esiste una possibilità per mettere insieme i due sistemi guardate questa è la possibilità Tico Brahe 1588 circa o anche questo sistema in realtà secondo alcuni storici sarebbe stato ripreso dall'antichità soprattutto secondo questi personaggi Copernico scusate Tico Brahe dice che questo sistema è l'antico sistema di Eraclide Pontico un astronomo vissuto anche lui nel quarto quinto secolo avanti Cristo oggi sappiamo che in realtà questo Eraclide Pontico oggi sappiamo di non sapere nulla di Eraclide Pontico in realtà e probabilmente Eraclide Pontico non ha mai fatto questo sistema in maniera compiuta ci sono soltanto alcuni passaggi c'è la coscienza che Eraclide era diciamo un seguace per alcuni aspetti di Pitagora e guardate qui appunto c'è la Terra qui c'è il Sole che gira attorno alla Terra e qui ci stanno i pianeti che girano attorno al Sole ora il problema non è tanto se voi leggete la Bibbia il problema non è tanto che il Sole si muova o non si muova il problema è che la Terra deve star ferma è quella se volete la resia e quindi dal confronto appunto si scatena una guerra o nel frattempo nel 1610 Galileo fa un'osservazione cruciale scopre che anche il pianeta Venere ha delle fasi queste fasi ovviamente lo sapeva già Tolomeo che poteva avercele Galileo lo scopre e le vede perché usa il cannocchiale fino a Galileo invece Galileo è il primo sostanzialmente che usa in maniera sistematica il cannocchiale fino a Galileo invece l'osservazione era occhio nudo e quindi in realtà Tolomeo dice se noi potessimo vedere le fasi del pianeta Venere scopriremmo che sono in accordo col mio sistema Galileo vede le fasi del pianeta Venere che non sono in accordo col sistema di Tolomeo terraferma ma sono in accordo con un sistema terra in moto e Galileo dice beh terra in moto uguale Copernico certo perché perché lui scrive il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo ma i sistemi non sono due sono tre Galileo dice due perché sostanzialmente per motivi politici no? non prende neanche in considerazione Ticco ma qui le fasi di Venere avrebbero esattamente che sta qua questo palloccolino verde no? questo è Mercurio questo è Venere avrebbero esattamente la stessa forma che nel sistema Copernicano quindi l'osservazione di Galileo è un'osservazione cruciale per far fuori Tolomeo anche se a dire la verità all'epoca di Galileo non tutti sono d'accordo molti pensano ancora che si possa salvare il soldato Ryan cioè il soldato Tolomeo e lo si possa salvare semplicemente aggiungendo qualche nuova sfera qualche nuovo cerchiolino eccetera eccetera nessuno fa i calcoli adeguati per farlo e molti però si convertono e non diventano copernicani diventano appunto ticonici ma facciamo un piccolo passo indietro 1616 la sacra 5 marzo del 1616 la sacra congregazione dell'indice pubblica pubblica un decreto che condanna la falsa dottrina pitagorica del tutto contrario alla sacra scrittura secondo cui la terra si muove e il sole è fermo ok condannati finalmente uno potrebbe dire l'hanno avuta meglio i teologi radicali lettori della Bibbia no quelli che vogliono prendere la Bibbia alla lettera l'effetto di questo decreto qual è vengono messi all'indice il De Revoluzioni Busorbium Celestium di Niccolò Copernico De Revoluzioni Busorbium Celestium vuol dire semplicemente le rivoluzioni cioè i moti di rivoluzione quello che noi chiamiamo il moto di rivoluzione il giro delle sfere celesti di Niccolò Copernico però non viene proibito viene sospeso in attesa che venga corretto perché viene sospeso e non proibito è perché Copernico sta proponendo semplicemente una dottrina eliocentrica sulla base dei calcoli sta dicendo guardate che voi vi fidate di Tolomeo ma vi fidate male perché Tolomeo è sbagliato invece ci sono due libri il commentario al libro Buonanotte di Giosuè di Diego di Zuniga e la lettera della mobilità della terra e stabilità del sole di Paolo Antonio Foscarini vengono proibiti nel 1619 poi un nuovo decreto ammonisce che la proibizione vale per tutte le pubblicazioni che insegnavano il moto della terra e l'immobilità del sole e nel 1600 qualcuno comincia a ricordarsi che Giordano Bruno era stato bruciato però per fortuna c'è un ordine religioso che comprende persone che sono dei grandissimi scienziati soprattutto matematici e oltre a essere matematici sono interessati profondamente interessati a pacificare a vedere se si possono trovare delle composizioni perché i matematici cercano una composizione perché i matematici sanno che Tolomeo non funziona e quindi cosa fanno soppesano i due sistemi anzi tre sistemi del mondo questi matematici e religiosi a un tempo sono i gesuiti i gesuiti si sono costituiti ormai da parecchi decenni come ordine religioso e la loro sede principale è il collegio romano al collegio romano insegna il padre Cristoforo Clavio che è uno dei più importanti matematici se non il più importante matematico dell'epoca di Galileo a cui viene richiesto un parere sulle scoperte che Galileo opera col suo cannocchiale che poi trascrive nel 1610 nel suo sidereus nuncius l'annuncio astronomico insomma Clavio si mette a dialogare Clavio è uno dei sostenitori di Ptolomeo all'antica molti dei suoi confratelli e allievi passano invece per così dire al nemico ma al nemico comodo non al nemico scomodo non diventano copernicani passano a Tico a questo sistema misto e nel 1651 uno di questi grandi matematici astronomi Giovanni Battista Riccioli che è un astronomo che sta a Bologna ma che certamente conosce benissimo l'astronomia dell'epoca scrive un'opera che è molto interessante anche nel titolo scrive un'opera che si chiama Il nuovo Almagesto Almagesto era il titolo dell'opera di Ptolomeo ma Riccioli sa che deve correggere qualcosa e allora lo chiama il nuovo Almagesto Copernico doveva essere corretto ma anche Ptolomeo deve essere corretto ecco che il nuovo Almagesto diventa il tentativo di correzione e davanti io non so purtroppo là in fondo se questo si vede o no ma adesso vorrei commentare un po' con voi questa bella immagine questo è sostanzialmente non è proprio il frontespizio ma diciamo il frontespizio nel senso che non sta alla prima pagina sta all'interno del libro c'è questa immagine che apre il nuovo Almagesto e vedete che qua si vede una bilancia con sopra due sistemi del mondo e qua un terzo e adesso lo vediamo un po' più analiticamente non basta qui sopra c'è una mano diciamo non si vede di chi è questa mano ma lo si può intuire è la mano di Dio dalla mano di Dio escono voi non vedete ma escono tre scritte la mano è messa così ci sono le dita di Dio escono tre scritte pondus mensura numero il peso la misura il numero e qual è l'idea di Riccioli l'astronomia non deve essere fatta sulla base di quello che dicono i testi sacri e quindi Riccioli sta accettando Galileo sostanzialmente no ma siamo ormai 40 anni dopo 20 anni dopo quasi 20 anni dopo la condanna eccetera eccetera e sta dicendo l'astronomia è una cosa seria bisogna misurare con le bilance e con i numeri sono i numeri che ci dicono delle cose i numeri non parlano da soli ma ci possono dire qualcosa per esempio ci possono dire quando sbagliamo i numeri non ci dicono quando facciamo giusto vi ricordate l'esempio di Copernico e di Tolomeo e lì avevamo gli stessi numeri gli stessi fenomeni che è possibile spiegare attraverso due sistemi diversi ma attenzione ci sono le fasi di Venere che almeno ci dicono quando una delle nostre possibilità è sbagliata e lo stesso modo funziona con i numeri con i numeri funziona che ti dicono quando le possibilità si riducono te le fanno ridurre riduzione dell'arbitrario non possiamo fare come vogliamo perché ci sono i numeri di mezzo ci ha fatto vedere prima Giorgio Dendi allora alla mano di Dio ciascun dito corrisponde a una scritta numero misura peso l'astronomia è una scienza quantitativa in più è Dio stesso che ha creato il mondo in base a quantità misurabile infatti qua sopra non si vede ma c'è il tetragramma sacro Yahweh quello lì è il Dio della Bibbia il Dio di Isacco il Dio di Abramo il Dio di Giacobbe questi però non sono personaggi biblici questo chi è? vedete che è un omino che tiene un cannocchiale con una mano e il suo corpo un omino un omone il suo corpo è ricoperto di occhi è il gigante argo della tradizione classica il gigante argo viene soprannominato talvolta panoptes cioè tutto occhi perché ha una vista fenomenale ha una vista fenomenale perché nel mito il suo corpo è ricoperto di occhi è colui che tutto vede e allora chi lo dareste in mano il telescopio il cannocchiale di Galileo se non a uno che ha una vista d'aquila ed è tutt'occhi lo strumento della nuova astronomia ma attenzione poi vedremo meglio che il gigante argo con il ditino indica qualcosa quest'area qua teniamocela per dopo e intanto vediamo chi è la signora dall'altra parte vedete che questa signora ha una veste ricoperta di simboli astronomici di astri in realtà un po' di sole un po' di lune eccetera eccetera è urania è la musa della matematica e dell'astronomia vedete che urania è la musa di matematica e astronomia proprio per quello che dicevo prima loro hanno una concezione ancora per cui l'astronomia è astronomia di posizione cioè studia le stelle movimento degli astri contro le stelle contro il cielo delle stelle fisse e quindi è l'astronomia di posizione l'astronomia di posizione si fa con la matematica urania è la musa di astronomia e matematica e cosa fa urania regge una bilancia questa bilancia come vi ho anticipato prima pesa due sistemi del mondo qua c'è il sistema di copernico sole al centro tutti gli altri pianeti attorno questa è la terra in particolare qui c'è la luna e qui ci sono i pianeti cosiddetti superiori mentre gli altri sono inferiori perché hanno un'orbita più vicina al sole e questo è il sistema ticonico terra al centro sole ci gira attorno e qua attorno girano venere e mercurio e il sole nel suo moto si trascina anche gli altri Marte che interseca la traiettoria della terra sostanzialmente vicino e gli altri che invece sono pianeti esterni quali sono gli altri gli altri pianeti Giove Saturno e poi no basta Urano l'hanno visto dopo Urano viene avvistato nel 1772 71 ma è soltanto nel 72 che si capisce che quello è un pianeta e Plutone ah no Plutone non è più un pianeta no perché è stata cambiata qualche tempo fa la legge degli astri no anche questa è una vicenda interessante quando ho studiato beh quando abbiamo studiato buona parte di noi ci facevano mi ricordo che c'erano due cose che ci facevano imparare memoria oltre alle poesie uno e vabbè passi erano soltanto nove i pianeti del sistema solare no quindi vediamo se mi ricordo ancora Mercurio Venere Marte Terra scusate Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone che però non c'è più per fortuna non ci facevano studiare neanche i satelliti perché se no impazzivamo poi in mezzo c'è anche una fascia di asteroidi eccetera e poi l'altra però giuro che non ve li dico ma per chi veniva dal nord come me appunto era quasi obbligatorio gli affluenti del Po e io quelli sono sempre impazzito non me li ricordavo e poi c'era tutto e insomma qui però c'erano soltanto i pianeti ora ma ha una bilancia in mano secondo voi secondo Riccioli chi ha ragione cioè cosa ci dice questa immagine chi ha ragione tra Copernico e Tico però io trovo anche bella questa immagine della bilancia perché ci sta dicendo che dobbiamo soppesare le cose non dobbiamo fare la guerra ci sta dicendo guardate che la strategia che era stata adottata dalla congregazione dell'indice ovviamente non glielo va a dire a quelli dell'indice perché se no fanno fuori anche lui ma ci sta dicendo implicitamente la strategia che era stata adottata dall'indice era sbagliata io adesso vi faccio vedere sulla base di queste tre cose che Copernico ha torto e invece Tico ha ragione e poi se ne può discutere infatti se ne è discusso è venuto fuori che Riccioli aveva torto cioè Tico aveva torto e diciamo un sistema molto simile a quello copernicano come sistema di Newton è quello corretto Newton però ha adotto un correttivo notevole su questo sistema qui adesso non gli sto a dire perché ma poi se volete se ne può ragionare insomma Tico è dalla parte di scusate Riccioli è dalla parte di Tico sulla base di motivi che sono peso misura numero sulla base di motivi che sono Galileiani e dove è finito Tolomeo chi lo vede questo eccolo qua Tolomeo perché è giù in basso è perché Tolomeo ormai è stato fatto fuori dalle fasi di Venere Riccioli lo sa Riccioli lo accetta Tolomeo tra l'altro è rappresentato eccolo qua questo signore un po' vecchio un po' anziano questo signore anziano qui non lo vedete ma dalla bocca gli escono dalla bocca di tutti i personaggi vedete che escono delle parole spesso sono non in tutti i casi ma sono per lo più parole di salmi o di brani biblici che vengono riadattati qui per esempio se non ricordo male posso anche leggervelo sì il verbo del cielo sgorga dalle tue dita qualcosa del genere perché lui sta guardando le dita della mano di Dio e invece questo io lo trovo spettacolare Tolomeo dice e rigor dum corrigor mi elevo mentre vengo corretto venendo corretto mi elevo mi elevo e divento Tico ok e anche lo stesso Copernico è stato corretto perché Tico sta conservando in realtà qualcosa di molto bello della struttura di Copernico sta conservando l'idea che la terra sta ferma ma attorno al sole gravitano tutti gli altri corpi quindi la terra è quasi inutile in realtà nel sistema nel sistema di Tico ultima cosa no ultime due cose questo abbiamo già visto oh vi dicevo prima Argo guarda in alto guarda in alto e vede le mani di Dio ma indica anche la mano di Dio ma sta indicando la mano di Dio o sta indicando questi angioletti chi sono questi angioletti bene se guardate attentamente adesso vediamo se riesco a farvele vedere una a una qui ci sono le scoperte di Galileo questo raffigurato è Giove e attorno a Giove ci stanno quattro stelline che cosa sono queste quattro stelline sono i quattro pianeti che lui chiama pianeti me dice perché Galileo era un essere umano c'era bisogno di soldi in sostanza c'era bisogno di ingraziarsi il potente di turno in particolare di ingraziarsi il il duca di Toscana che era se non sbaglio all'epoca Cosicmon I de Medici secondo de Medici grazie che lo doveva pagare infatti Galileo viene chiamato a lavorare in Toscana e quindi li chiama appunto pianeti Medici ma non ci sono soltanto i pianeti Medici qui c'è la luna che ha un'ombra alla fase di luna perché viene raffigurata così perché Galileo nel 1610 nell'annuncio astronomico nel Siderio Snuncius fa un'altra scoperta sensazionale oltre ai pianeti Medici che rappresenta anche graficamente e oltre alle fasi di Venere pure rappresentate guardarle scopre che le ombre sulla luna ci dicono che quella è un'altra terra le ombre sono ombre appunto proiettate da montagne sulle valli quelli che noi chiamiamo monti e chiamiamo crateri quindi la luna è davvero un'altra terra aveva ragione Bruno Bruno che aveva già detto proprio queste parole la luna non è altro che un'altra terra poi guardate sopra c'è una cosa qui c'è pure una cometa perché qualche tempo prima era stata avvistata una cometa e qua c'è una cosa straordinaria vedete che c'è questo corpo strano celeste circondato da questi altri due parentesi mi fa venire in mente qualcosa oh scusate mi fa venire in mente qualcosa è Saturno questi sono gli anelli di Saturno Galileo nel Siderio Snuncius vede Saturno e lo chiama pensa che sia un pianeta formato da tre corpi perché con il cannocchiale vede quelli che noi osserviamo oggi come anelli ma non li vede in maniera sufficientemente nitida quindi non gli sembrano non gli sembrano anelli ma gli sembrano e non saprebbe comunque dire che cosa siano ma gli sembrano invece degli altri corpi forse dei satelliti o forse Saturno ha una forma bizzarra più bizzarra degli altri corpi celesti ma Galileo ha già rinunciato all'idea che il mondo sopralunare oltre la sfera della luna sia particolarmente perfetto no? no il mondo sopralunare è tanto imperfetto quanto siamo noi e c'è un'ultima cosa che penso sia straordinaria di questa immagine con cui posso anche concludere e beh vedete queste immagini cosa ci ricordano? ci ricordano che a un certo punto è cambiato qualcosa no? abbiamo cominciato a vedere nei pianeti non più dei moti disordinati di cose costruite per noi ma dei compagni di strada delle terre che sono esattamente come la nostra questa è l'idea di Galileo i pianeti sono fanno parte di noi quando guardiamo il cosmo non soltanto ci interroghiamo su qualcosa che sta là fuori e che è più grande di noi e il detto di Kant il cielo stellato sopra di me la legge morale dentro di me è tutto qui il cielo stellato sopra di me mi ricorda che io sono piccolo non soltanto qui c'è dell'altro mi ricorda che guardando vengo guardato noi diceva Italo Calvino chiudo con questa battuta guardiamo il mondo aprite una finestra ecco quella finestra là e cosa vedete 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 il mondo ma vedete anche che questo mondo è composto di occhi di altre persone che guardano voi il mondo dice Calvino guarda il mondo l'astronomia è così bella perché ci ricorda che non che noi siamo al centro e guardiamo gli altri ma che siamo parte di un mondo che a sua volta ci guarda gli astri guardano noi magari non dicono niente no? e Leopardi lo sa la luna è muta e noi tocca chiederci che fai tu luna in cielo e quella non risponde però magari anche la luna parla nel suo linguaggio noi non rispondiamo se mi chiedete se credo agli extraterrestri non ci credo però grazie se ci eh prego un solo intervento allora per tornare al famoso rico di Giosuè che nel contesto era la battaglia di Gabbama non dobbiamo a curare il sole per la durata del giorno ad essere colungata anche che la battaglia degli israeliti contro i canamei potesse portare alla vittoria allora in realtà se noi con gli occhi di occhi per la scienza è venuta in soccorso di questa affermazione perché è un'affermazione paradossale questa di dire che il sole si ferma perché in realtà ok ho voluto fare una riflessione mia personale in realtà la scienza ci dice che Giosuè ha ragione cioè che il testo del libro di Giosuè ha ragione mi spiego allora noi sappiamo che la luna ruota intorno alla terra la terra ruota attorno al sole ma la scienza ci dice pure che il sole fa un moto dentro l'universo immagina attorno a una galassia quindi se noi rileggiamo il testo e vediamo che Dio ordina al sole di fermarsi ordina veramente al sole di fermarsi nella sua traiettoria attorno a questa galassia e se il sole si ferma i meccanismi invisibili che lo collegano con la terra la terra si ferma quindi si ferma anche la luna quindi il testo ha ragione ma la scienza pure bisogna avere lo stesso linguaggio armonizzare i stessi linguaggi quindi la Bibbia è un libro di matematica pura ma basata su un paradosso che ogni volta ci fa impazzire grazie grazie per la riflessione anche così del paradosso sì sì per essere precisi prima citavo Newton Newton conclude ovviamente all'epoca mica sapevano che il sole si muove nella galassia eccetera la galassia questa è un'altra delle scoperte di Galileo la galassia per loro era fino a Galileo sostanzialmente fino a Siderio non ci sono un ispessirsi di alcune zone dell'etere e così via o un fenomeno spiegato attraverso dei fenomeni atmosferici Galileo dice no no la galassia è fatta di stelle natura stellare della galassia altra scoperta di Galileo in quel libro importantissimo prima citavo per venire dalla cosa che diceva il nostro amico prima citavo Newton dicevo il sistema di Newton non è esattamente come quello di Copernico perché? perché il sistema di Copernico ha un aspetto essenziale il sole sta al centro dell'universo fermo Copernico ci sta dicendo cambia il punto di vista questo Copernico lo sa fare perché è un bravo matematico e conosce quelli che tecnicamente si chiamano i teoremi di inversione sono teoremi di inversione tu dal punto di vista geometrico puoi metterti appunto in una certa prospettiva o metterti in un'altra tu in moto tu stai fermo intanto se non ci fosse niente qualche parametro immaginatevi se non avete nessun parametro come fate a capire che davvero vi state muovendo e non sia l'altro treno che guardate dal finestrino che si sta muovendo immaginate di essere in una stazione nera anzi in galleria e vedete soltanto il treno che si muove non sentite il vostro movimento perché sapete il treno quando si muove lo fa molto lentamente all'inizio e quindi immaginate di non sentire cambia velocità lentamente tanto che non c'è differenza tra stare fermo come ci dice la fisica e lo stato di un osservatore in moto in moto uniforme in moto rettilineo uniforme quindi è sempre questione del punto di vista nel sistema di Newton no perché Newton non ci dice più il sole sta al centro dell'universo e gli altri pianeti ci girano intorno ci dice il sole e la terra o il sole o qualsiasi due corpi presi in uno spazio astratto si attraggono secondo una certa legge che è F uguale G perché c'è una costante di gravitazione universale M1 una delle due masse per M2 l'altra massa diviso il quadrato della loro distanza ora le masse si muovono in un certo modo a seconda di quale è più grossa e quale è più piccola no se voi mi mettete la terra e fate girare attorno alla terra il sole perché in realtà la terra sta tirando molto il sole e il sole sta tirando poco la terra quindi vuol dire che il sole deve essere molto piccolo e la terra molto grande e questo non funziona più quindi non c'è soltanto la geometria di mezzo se io penso e loro lo sapevano che il sole è molto grande deve essere la terra a muoversi attorno al sole allora dite vabbè ma allora me la cavo con Tico Tico mi dice posso pensare in realtà che la terra sia molto grande il sole è più piccolo della terra o comunque meno massivo e gli altri pianeti invece girano attorno al sole ma di nuovo anche qui ho lo stesso quanto deve essere più piccolo o più grande di noi un pianeta per muoversi attorno al sole e il tutto per muoversi attorno a noi qui la geometria non è più indifferente cioè il sistema di Newton fissa dei parametri e questi parametri ci dicono quale deve essere la geometria del nostro universo in più il sistema di Newton non ha un centro immobile il sole anche se di un pochettino si sposta perché è spostato dall'attrazione che poca che la terra e gli altri pianeti esercitano su di lui se sostituiamo la terra con un buco nero vedi il sole che fine fa questo per ma è adesso non funziona allora io stesso sento la mia voce pessima per le lunghe conversazioni di questi giorni la mia è solo una domanda storica all'inizio ma ripetendo anche l'esempio che hai fatto dei teoremi invertiti sembrerebbe che sembrava dal tuo discorso mi pare che Copernico secondo un'interpretazione che poi dirò a chi dovrebbe essere attribuita almeno a mio sapere avrebbe trovato indifferente il fatto che si privilegiasse il suo sistema quello di Ptolomeo se non con la correzione che era un sistema di calcolo più preciso il suo ma Luca questo dipende da Copernico o da Osiander cioè dalla introduzione del De Rivoluzioni venne pubblicato con Copernico morente la dedica al Papa Paolo III fu mi pare no con sicurezza ormai attribuita a Osiander il quale per far passare il libro di Copernico in fondo in quella prefazione diceva guardate si tratta di quello che noi oggi chiameremo lo strumentalismo cioè Copernico ci sta dando soltanto un sistema di calcolo di traiettorie eccetera più economico servono meno epicicli eccetera vengono risolti certi grattacapi chiamiamoli così della teoria tolemaica ma in verità poi le cose potrebbero stare anche diversamente cioè non l'eliostatismo di Copernico ma il geocentrismo di Tolomeo ma insomma almeno secondo i miei lontani le mie lontane ricerche storico astronomiche mi sembrava che lui invece credesse anche materialmente all'eliostatismo e fosse Osiander che gli avesse dato una patina di strumentalismo diciamo grazie della domanda che approfitto per chiarire questa questione insomma l'hai detto già tu molto bene Osiander che è un teologo luterano scrive una prefazione al libro di Copernico la prefazione non è firmata e questa prefazione ci dice sostanzialmente ma il mio sistema sembrerebbe parlare quindi Copernico è soltanto uno strumento di calcolo ma non ha una realtà concreta magari Dio ha messo le cose diversamente ma se voi fate come vi insegno io come vi spiego io i calcoli diventano più facili passarono parecchi anni prima che Keplero scoprisse che in realtà appunto la prefazione che sembrava orientare la lettura del De Revoluzionibus fosse di questo teologo e non autentica di Copernico perché perché Copernico e questo si capisce dagli altri scritti precedenti De Revoluzionibus che vengono fatti circolare da Copernico tra gli studiosi quindi sono scritti che rimangono non pubblicati ma che hanno una certa circolazione Copernico il commentarivolus perfetto Copernico sostanzialmente invece probabilmente ha una posizione realista cioè lui crede realmente che in realtà è il sole che sta fermo e d'altronde come dicevo prima questo è compatibile anche con alcune letture con una lettura alla Galileo della Bibbia no Dio in realtà si scrive due libri ma in uno parla per metafora in uno parla invece sul serio e quello in cui parla sul serio non è mica la Bibbia è la natura ora capite che appunto stiamo sempre un pochettino sul crinale dell'eresia da questo punto di vista no ma comunque certo Copernico per quanto lo riguarda ha una posizione probabilmente realista con alcuni ondeggiamenti che avvengono fuori per esempio all'inizio inizio della della nella primissime pagine del De Revoluzionibus dove appunto Copernico dice io con questo sistema non ho voluto fare altro che dare uno strumento nuovo di calcolo perché i calcoli sui pianeti vengono sbagliati ma questo capite che se noi non avessimo letto la prefazione di Osiander mica potremmo dire se lui intende lì la parola strumento in maniera forte o debole è chiaro che è anche uno strumento di calcolo però magari uno ci crede davvero nello strumento di calcolo in quello che il calcolo dice probabilmente ripeto la la visione di Copernico è molto realista il punto però a mio parere è un altro al di là di Copernico è come si può far uso delle nozioni copernicane in quest'epoca potete farne uso come strumento nessuno dei gesuiti è così all'occo da non sapere che Copernico è un grande matematico oppure potete fare uso politico oppure potete fare un uso appunto teologico che Plero ci fa un uso teologico e lui però dice beh guardate che bella teologia vi viene fuori se pensate che sia il sole al centro del cosmo anzi in uno dei due fuochi di ogni orbita che illumina e attira a sé gli altri pianeti non avete qua l'immagine la metafora di Dio Cristo e lo spirito lo spirito è la forza che vi attira e Cristo si incarna e va a finire su un pianeta insomma quindi potete fare uso in modi diversi di queste nozioni uno di questi modi è quello realista ma quello realista in questo periodo diciamo è anche uno di quelli meno consigliabili perché ti mette appunto nelle condizioni di finire in un posto molto caldo come era successo a Giordano Bruno possiamo chiudere grazie ancora anche della vostra pazienza grazie a tutti